No Mariam, devi lasciarti andare, il tuo corpo, il tuo corpo deve fare quasi parte della macchina, ho capito? Così? Vai bene, ecco, benissimo Acchiappa il vestito Cerca di tenerlo fermo Ferma così, ferma così, perfetta, dai Mimmo, scatta Sì, ferma così, perfetta, dai Mimmo, scatta, dai Mimmo, scatta, dai Mimmo, scatta, dai Mimmo, scatta, dai Cerca di tenerlo senses, la mariam, scatta, dai Mimmo, scatta, dai Mimmo, scatta, dai Mimmo, scatta, dai Mimmo, scatta, dai Mimmo Grazie a tutti. Qui fa giorno molto presto. Io vado a dormire. Buonanotte. 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 Tu hai una donna in Italia? Sì, l'ho avuta. E l'ho anche sposata. Poi ci siamo... ci siamo separati. Divorzio? No. Ho avuto l'annullamento. Adesso è come se non fossi mai stato sposato. Allora sei libero. Appunto. E così posso farti la corte. Perché? Perché stai diventando molto importante per me. Allora sei. Grazie a tutti. Grazie a tutti.